ciao a tutti oggi prepareremo la granita alla mandorla il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono mandorle pelate zucchero semolato acqua e ghiaccio a cubetti diamo il via alla ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo le mandorle chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10 adesso con la spatola smuoveremo bene il composto e ripeteremo l'operazione altre due volte quindi impostiamo 30 secondi a velocità 10 a questo punto rimaniamo sul fondo adesso aggiungiamo l'acqua che deve essere fredda di frigo chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 10 l'effetto sarà quello di una pasta lo riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo il ghiaccio chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino posizioniamo la spatola che ci servirà per spatolare e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8 spatolando la granita alle mandorle è pronta trasferiamola in dei bicchieri granita alle mandorle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti